Ansia e obesità, due problematiche che sembrano non avere nulla in comune, ma che in realtà hanno molte correlazioni. Sì, la ricerca scientifica negli ultimi decenni ha dimostrato come esiste un rapporto di tipo ormonale e biochimico tra l'ansia e l'aumento di peso. L'ansia stimola la produzione delle catecolamine, del cortisolo e di altre sostanze che possono indurre un aumento di peso. Su questo una nostra proposta di cui parleremo il 24 prossimo a Pizzo, nel proporre un trattamento con training autogeno. Sono esercizi di autorilassamento che vengono insegnati alla persona, riuscirà così senza farmaci a dominare l'ansia, avrà maggiore possibilità di trattare la sua obesità.